Niente Fiorentina per Roberto Donadoni. La società viola ha scelto il portoghese Paolo Sousa che nella serata di ieri ha ottenuto la rescissione del contratto con il Basilea. Difficile al momento che la società svizzera punti proprio su Donadoni, il quale come già anticipato ieri potrebbe anche non traslocare dal Ducato qualora ricevesse una proposta dalla nuova proprietà. Per la futura panchina del Parma MB continua a circolare il nome di Francesco Guidolin, il quale ha appena detto no ad una proposta del Vicenza. Attenzione però, non perché abbia già in mano un accordo con la nuova eventuale proprietà crociata, quanto perché non riteneva convincente l'offerta biancorossa. Su Donadoni potrebbe tornare all'attacco il Toronto, la squadra di Sebastian Giovinco che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con due giocatori crociati, Fabiano Santacroce e soprattutto Daniele Galloppa. Piace in particolare il secondo, con il quale la trattativa sarebbe in fase avanzata. Restano da sciogliere ancora alcuni dubbi da parte del centrocampista, dubbi legati all'intraprendere un'esperienza in un calcio in decisa crescita, ma ancora lontano dai livelli competitivi di quello europeo. Più fredda la pista che porta il difensore, per il quale ci sono anche alcune opportunità da realtà di B, in latina di Pietro Leonardi soprattutto, dove potrebbe accasarsi anche Massimo Coda. Sulle trattative sull'asse Parma-Canada, la nostra redazione è intervenuta ieri sera in diretta in collegamento telefonico con il popolarissimo network nordamericano NACE-Ace. Grazie per la visione!